L'Assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato a sta grande maggioranza il bilancio 2018. A fare la voce grossa, pur senza aprire bocca in assemblea, è stato l'azionista di maggioranza, il Ministero dell'Economia e Finanze. A storcere la bocca invece i piccoli azionisti. D'altra parte il 68% delle azioni sono dello Stato e il MEF non poteva che votare come si è votato. Quanto ha perso lei in questa banca? Non lo posso dire, tanto. E qual è il futuro che vede? Il futuro siamo nelle mani per chi crede di chi sta sopra. Non del Ministero? Non del Ministero, io non credo nei politici. In assemblea bocciate le proposte di azioni di responsabilità nei confronti degli attuali ed ex vertici della banca. Oggi sappiamo che il Ministro Tria è dalla parte dei banchieri e non degli azionisti e dei risparmiatori. Io credo che, voglio dire, se qualcuno priva un dubbio, oggi ha una visione lucida delle cose, quindi fare chiarezza è sempre un valore aggiunto. E guardi, ho detto il Ministro Tria, il MEF, non ho detto il Governo. Il Governo, i Cinque Stelle hanno fatto un lavoro ottimo, Di Maio si è speso in prima persona, ma non è Di Maio che decide come si vota in questa assemblea. E chi è? Ma credo che in realtà il vero boccino in mano ce l'hanno i tecnici.